Continua la serata al Barahonda Club di Milano e adesso siamo con Elisabeth, una veterana del locale, frequenta sempre e dai presenti a tutte le serate. Benvenuta e bentornata Elisabeth! Grazie! Cosa ti aspetti da questa serata? Una bellissima serata che si merita per il suo anniversario della Barahonda. Infatti festeggiamo, ricordiamo i due anni del Barahonda, due anni di successi. Quante ne abbiamo passate in questi due anni? E tante cose belle, compiani, feste, Mr. Borderline che è stato molto bello, sono stato anche giurato, quindi mi è piaciuto moltissimo. Hanno avuto una bella organizzazione che non me l'aspettavo. Sappiamo che anche a novembre il Barahonda organizzerà un altro dei suoi concorsi, come è stato tanti, te sei stata giurata, pensi di tornare? Certamente! Sempre, sì sì! Grazie! Un piacere! Grazie per essere stata con noi e ci vediamo dentro! Grazie, grazie!